Il commissario d'acta per la sanità della Calabria, Saverio Cotticelli, ha presentato ieri mattina le dimissioni ai ministri Gualtieri e Speranza. Dopo l'intervista sul Rai 3 nella trasmissione Titolo Quinto, è scoppiata una bufera mediatica e una reazione non solo politica ma anche di tutti i calabresi. Sui social, uno Zumani contro il generale in pensione dei carabinieri, che appunto ieri mattina ha rassegnato le sue dimissioni nel momento in cui il Presidente Conte annunciava la sostituzione del commissario alla sanità calabrese perché i calabresi meritano il rispetto del diritto alla salute. E Giuseppe Zuccatelli, il nome indicato in Consiglio dei Ministri per il nuovo ruolo di commissario per la sanità in Calabria, è una persona di grande competenza e capacità operativa, sottolinea il ministro per il Sud Provenzano, avrà tutto il sostegno per l'emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti. Guardi, sono risultato positivo e sto finendo la quarantena, ci sentiamo nei prossimi giorni. Sono le uniche parole di Zuccatelli contattato da Lanza. Zuccatelli subentra il generale Saverio Cotticelli, che ha abbandonato l'incarico per le polemiche successive alla sua intervista, da cui è emerso che non sapeva che toccasse a lui predisporre il piano anti-Covid in Calabria. Zuccatelli, 76 anni, dice sana, è attualmente il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del Policlinico Universitario Mater Domini, sempre nel capoluogo calabrese. In passato è stato anche presidente della Genas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ed è in Calabria dal dicembre dello scorso anno.